Slitta l'incontro tra regioni, sindaci della Val d'Agri e Deni per la firma del bonus gas. Troppo evidente la concomitanza con la manifestazione popolare a difesa dell'ospedale di Villa d'Agri. Magari la data della firma era già stata decisa prima di quella per la protesta. Noi crediamo invece che il governatore Pittella abbia voluto mettere i sindaci di fronte a una scelta, cercando di disinnescare la portata politica della protesta, con una mossa che forse lascia trasparire anche un po' di preoccupazione per un eventuale successo dell'evento. O a Villa d'Agri con i cittadini, o a Potenza con i funzionari della regione, insieme a Eni e Shell. Poi, dopo la denuncia della nuova, il ripensamento con il presidente della regione che ha dato disposizione di rinviare ad altra data la firma del suddetto disciplinare gas con annessa conferenza stampa. Compatibilmente con gli impegni già in agenda, ha fatto sapere, faremo in modo di aggiornare a mercoledì 2 dicembre l'appuntamento in programma per il giorno precedente. Pittella, inoltre, ci ha tenuto a precisare che la giornata di martedì per la firma del bonus gas era stata individuata dopo che per una serie di altre circostanze era venuta meno l'audizione in Parlamento, presso la commissione presieduta dall'onorevole Migliore sul tema legato all'accoglienza dei migranti. E dunque solo una fortuita coincidenza, e non la volontà di boicottare la manifestazione dei sindaci a difesa del nosocomio valigiano. Ma i dubbi rimangono.